Che sanità è quella per cui si deve lottare per avere in cambio dei diritti che sono fondamentali? Che sanità è quella di un'isola che ha fatto certamente dei passi in avanti ma che è ancora in estremo ritardo rispetto all'arresto del Paese? Purtroppo per quanto riguarda le malattie rare bisogna comunque fare molti passi avanti. Vediamo comunque che viviamo in una sanità piena di sotterfugie e di contraddizioni dove purtroppo viene a mancare proprio il diritto alla salute e la possibilità di poter davvero curare i nostri pazienti all'interno della nostra regione siciliana. Se consideriamo anche i viaggi della speranza che in questi anni tante famiglie hanno dovuto affrontare e se consideriamo anche che purtroppo ad oggi è un dato di fatto manca un team multidisciplinare in grado di poter proprio prendere in carico i pazienti dall'inizio fino alla fine del percorso diagnostico-terapeutico, riconosciamo che effettivamente nella nostra isola c'è ancora tanto da fare. Ho conosciuto Cina Maniscalco qualche anno fa, io la chiamai un giorno al telefono come tanti giornalisti per farmi raccontare la sua storia, poi l'ho incontrata e mi sono resa conto che dietro i suoi appelli, il sit-in e le manifestazioni per la piena affermazione del diritto alla salute in Sicilia c'era dell'altro, c'era una mamma coraggiosa e battagliera che voleva il meglio e che vuole il meglio. Io sono convinto che la politica sia una vocazione, per cui mi appello all'animo di tutti perché dentro ognuno di queste persone, perché sono istituzioni ma sono persone, sicuramente alberga una grandissima carica ideale, bisogna trarre fondamento da questo, bisogna andare alle origini di questa carica e darci tutti una mano. Noi non siamo attenzione, questo evento non è in contrapposizione con niente e con nessuno, noi in modo sinergico vogliamo appartenere, vogliamo rivendicare questa appartenenza a questo tessuto sociale Grazie 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 Grazie